Le note del silenzio Benvenuta nel nostro centro di parrucchieri ASMR In questo centro ascolterà tutti i rumori dei suoi capelli e tutti i rumori degli attrezzi che utilizziamo appunto qui da noi Cosa desidera? Penso che sia qui per uno shampoo e per un taglio Non mi sbaglio Benissimo, intanto vedo che ha dei capelli rossi formidabili sono bellissimi, le faccio già i miei complimenti Allora, per iniziare vorrei proporle la nostra super formula Elisir d'amore Che formula è? E' una formula piena di coccole per lei Un velo Potrà accomodarsi dalla mia collega per avere uno shampoo super 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 rilassante Dopodiché avrà l'applicazione di questo magico Elisir d'amore che farà splendere i suoi capelli Dopodiché io mi occuperò Della cura dei suoi capelli E della cura Anche del suo benessere Facendole appunto ascoltare i suoni di cui le parlano Cosa le dice? Lo prova questo Elisir d'amore E' semplicemente un Elisir Che farà splendere i suoi capelli E che farà andar via anche Non solo Tutte le impurità Delle squame del capello Ma anche Tutta l'ansia Che può avere tutti i pensieri negativi Dove va? Ok Allora può Accomodarsi Al lavaggio A dopo Prego L'acqua va bene Troppo grande E' semplicemente un'altra E' semplicemente un'altra E' semplicemente un'altra I capelli morbidissima Quindi che se mi do fastidio E' semplicemente un'altra la prima volta che la vedo benissimo la sua figlia scusi ma sa siamo abituati a parlare molto in qualche ok adesso il secondo shampoo non ha bisogno neanche che io le districhi i capelli già ti ha ragione un tempo maledetto questi giorni veramente mi dovevo anche andare in vacanza niente alla fine non sono andata adesso guardi che vuole farci a questo tempo senta la tinta deve farla no ok abbiamo abbiamo dei magnifici colori a base di argilla sono naturali ok benissimo ok allora allora adesso voglio mettere un pochino di lozione che vedo ho visto prima che ha leggermente un po' di doppie punte ok mi metto mi metto solamente sulla zona del sulla zona del qui no sopra ok mi metto la mano qui un attimo ok e adesso le vado ad applicare questo revisir non ho parlato no è una mousse è una formula arricchita con di carite proteine del del grano e anche olio cacca d'argan mi sono una bomba veramente un ricostituente per i capelli un po' così sfiderati e stressati adesso lo marcomo bene sulle mie mani ok adesso lo tieni su un secondo mentre mi sciacqua le mani dopodiché si può usare la lavatesta e si può accomodare al taglio ok può accomodarsi per il taglio benissimo eccoci qui vedo che ha già asciugato i capelli benissimo adesso passiamo al taglio vero e proprio e comunque preferisco tagliare i suoi capelli secchi per quanto riguarda il suo tipo di taglio che non richiede insomma il capello bagnato va bene ok perfetto cominciamo subito prendi parola pra b met 01 passiamo 바로 passiamo il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.